Non ci scoraggia, il Nuovo Ruggi nascerà qui a Salerno, sarà un fatto importante per la nostra città, io sono un salernitano, ben venga, però questa struttura è una struttura che può fare ancora tanto bene, che non va abbandonata, mentre costruiamo il Nuovo Ruggi, per cui andiamo avanti così e saremo sempre più impegnati su questi settori. Il Nuovo Ruggi dovrà aspettare i tempi del Tardinapoli chiamato a decidere sull'assegnazione dell'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Salerno, una notizia che non lo scoraggia però i vertici dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno, che hanno mostrato grande orgoglio oggi nell'ospitare la giornata mondiale nella lotta contro il cancro infantile. Il commissario Vincenzo D'Amato è felice anche della notizia del Nuovo Bando, che porterà 100 nuovi operatori sociosanitari all'interno del Ruggi. I risultati avuti in sanità sono a merito degli operatori del Ruggi, ma degli operatori della sanità della Campania. Senz'altro la carenza ci sta, ci sta ancora, non si hanno le bacchette magiche, ma tanto, tanto, tanto stiamo facendo. Abbiamo fatto numerosissimi concorsi, portato a termine tanti concorsi per i dirigenti medici, abbiamo portato a termine concorsi per gastroenterologi, neurologi, nefrologi, cardiologi, ma tanti e tanti altri. Ma non solo, per gli infermieri abbiamo pubblicato il concorso, lei lo sa, dei 160 infermieri. Ieri l'Asra ha pubblicato il concorso dei 150 OSS, 100 per i Ruggi, 50 per l'azienda sanitaria Salerno. Abbiamo pubblicato la settimana scorsa una delibera per aderire alla graduatoria del Cardarelli, sempre per gli infermieri, 40 infermieri che arriveranno di qui a breve. Insomma, altri concorsi per il campo dell'emergenza, per la medicina d'accettazione d'urgenza, è previsto l'espletamento il 3-4 del prossimo mese. 39 domande, speriamo che tutti partecipino, avremmo risolto il problema anche in quel settore. Insomma, stiamo facendo davvero tanto.